Il 95% delle aziende agricole lombarde che partecipano alla vendita diretta dei prodotti con i farmer market o le botteghe agricole dichiara un fatturato in crescita nonostante la crisi. Lo sostiene la Coldiretti che ha presentato i dati alla prima assemblea regionale di Campania Amica presso la Cascina Cuccagna di Milano. Aumentano anche le aperture dei mercati e delle botteghe per la vendita diretta e nonostante la crisi cresce anche l'occupazione. Abbiamo due fronti, quello dell'agricoltura tradizionale e quello dell'agricoltura zootecnica che rimane ovviamente il pilastro centrale della nostra agricoltura che forse attraversa una crisi senza precedenti ma che è dovuta principalmente a una mancanza di dialogo costruttivo con la parte industriale. Dall'altra parte invece la diversificazione dell'attività agricola, quindi pensiamo alla vendita diretta dei prodotti, l'apertura dei negozi, agli agriturismi, alle fattorie didattiche che nonostante la difficoltà economica che il paese sta attraversando e che la nostra regione sta attraversando è l'unico settore produttivo che oggi ha un dato positivo proprio anche in termini di occupazione all'interno proprio del mondo agricolo. Quindi siamo gli unici che crescono e con una percentuale significativa perché è una crescita pari al 5% rispetto al 2010. In mostra la cascina cuccagna e la polenta, alimento tipico della pianura padana, tradizionale piatto povero da riscoprire in tempo di crisi. In viaggio col giallo racconta i tanti modi in cui si può preparare la polenta anche fuori dal classico ambito culinario, recuperando la tradizione degli impacchi per il raffreddore o usandola insieme a uno yogurt per uno scrub di bellezza.